Nell'Aula Magna della Cavalerizza Reale a Torino, il Rettore dell'Università, Giammaria Iani, ha conferito la Laurea Honoris Causa in Storia dell'Arte all'artista bulgaro Christò. Cosa significa questo riconoscimento per lei? Come nella vita di chiunque, sicuramente è una soddisfazione ricevere un riconoscimento di questo genere, in particolare qui a Torino, che è una città che amo molto, dal resto ho trascorso molto tempo in Italia e ho molti amici. Quali sono i suoi progetti per il futuro? Ho già detto che da 40 anni lavoro a questo progetto della Mastaba ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Il tipo di rapporto è il suo con Torino? Per la prima volta sono stato a Torino nel 1964 per una mostra alla Galleria Sperone, da allora sono tornato spesso, qui molti amici, amo molto la città e come amo del resto tutto il nord Italia. Un messaggio ai futuri artisti? Non consiglio mai nulla a nessuno dei giovani artisti perché è molto personale, non do mai consiglio. È molto personale.